Alla fine giocata noi ovviamente ci serve perché abbiamo 4-5 ragazzi che sono arrivati l'ultima settimana del ritiro prima della prima giornata di campionato quindi diciamo che ci è servita per dare un po' di minutaggio a questi ragazzi che sono giovani e che sono arrivati in ritardo. E' stata penso una buona gara soprattutto il primo tempo dove è stata un pochino più aperta e più giocata anche dal Grosseto ovviamente il secondo tempo c'è stata mezz'ora di supremazia netta del Pescara dove abbiamo sofferto e poi l'ultimo quarto d'ora abbiamo rifatto qualcosina di buono comunque sono soddisfatto di alcune giocate dei miei ragazzi che proviamo durante la settimana e l'abbiamo messa in pratica e questo fa piacere anche se ovviamente, ecco ripeto, non avevamo nelle gambe il ritmo alto da parte di 4-5 ragazzi quelli che sono un pochino in ritardo con la preparazione. Pensando al campionato ha visto qualcosa di interessante? Si è fatto l'idea di Pescara? Pescara io ho visto tutte le tre gare giocate anche in pezzetto dell'Olbian Coppa Italia ovviamente è una squadra, è una struttura di squadra, penso che lo sapete meglio di me, costruita per vincere il campionato quindi ha un allenatore di grande esperienza, oltre alla grande esperienza ce ne possa aggiungere un vincente per la categoria quindi ci sono tutti i presupposti per fare un campionato di vertice anche se il campionato di C lo sapete è difficilissimo a vincere perché ci sono anche altre squadre attrezzate come Modena, Reggiana, Intella, ho visto domenica personalmente il Siena anche il Siena è una struttura di squadra importante per questa categoria di giocatori di grande esperienza quindi penso sarà un campionato avvincente e poi con l'esperienza del mister che sicuramente secondo me alla fine fra le 4-5 squadre può fare la differenza No, diciamo meglio così perché se andavamo in tempi supplementari poi poteva essere un problema quindi lasciamo fare le cose come state, il Pescara e Anna Rosa che magari possono avere un pochino più esperienze in rotazione di nord, possono anche mirare a andare avanti nella Coppa Italia anche nella Coppa Italia, quindi non è il nostro obiettivo, noi la finiamo qui, adesso perdere dispiace però io prendo lo spunto delle cose negative per poter lavorare, per poter migliorare delle situazioni soprattutto dei ragazzi giovani che sono arrivati un po' in ritardo ecco